L'Ierna è un piccolo paese situato dalla provincia di Lecco. A Lierna c'è il lago di Tuno. Renzi e Lucia andavano sul lago di Como su quella barca. Il mare è salato, il lago è dolce. Al mare non ci sono le montagne, qui invece ce ne sono. Io vado in giro con gombole. È tipo una spiaggetta sotto casa, io le cannabuli e le pesco. L'alborella così, Massimo così. Trollo così, sempre come un'alborella, che vedano anche così. Il persico, l'alborella, il pesce sole, il trigotto. Il persico così. L'alborella, il pesce sole, il pesce sole, il pesce sole, il pesce sole, il pesce sole. 200 grammi di farina bianca, 120 grammi di noce nocciole, fichi secchi. Un cucciolin di olio d'oliva. 10 centilitri di olio d'oliva. I pom, le mele. Un pizzico di sale. Latte scremato. 150 di pere. 100 grammi di burro. Una bustina di lievito. 180 grammi di zucchero. 180 grammi di farina gialla. Uga fragola. Tagliare i fichi. Sbucciare mele e pere. Dobbiamo fare la mignaccia. Ci servono 150 grammi di fichi secchi. Poi? 120 di noce nocciole. 150 di pere mature. Di quelle buone. Poi? 150 grammi di mele buone. Ok. Pezzettare noce nocciole. Mettere in un contenitore farina bianca, farina gialla, lievito, sale, ricarbonato, zucchero. La farina gialla, la farina bianca, la farina bianca e il zucchero. E il zucchero. Poi lo zucchero. Aggiungere il burro di sciolto a bagnomaria. E l'uva. Uva americana. Infine mettere l'olio. Rischiare il tutto e aggiungere eventualmente del latte per renderlo in pasta morbido. Coccere un'ora nel forno a 180 gradi. Io schiacciare le bianca. Chi è bravo a spicciare qui? Io schiacciare i bianca. Io schiacciare i bianca. Vieni qua. Tu dai con me. Ma che buc'è? Io sono la più brava. Eeeh. 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 Farina bianca. Quanti gradi? 120. 200. 200. Di farina. Di marzo. 180. 180. 180 grammi. Allora, adesso mettiamo il lacet. il lacet. Il lacet. Il lacet diventa una pastella morta. Abbiamo messo l'uva e i fichi. Adesso mettiamo le mele e le pere. C'è dentro tutto qui? No. Cosa manca? Le nocci e le nocciole. Posso metterle io? No. Posso metterle? Quando le è andate una girata tutti, le forniamo. Il mescolare va bene. Ci siamo, Vini. Adesso aiutatemi che lo mettiamo in padella. Clic, cloc, clic, cloc, clic, cloc, clic, cloc, clic, cloc, clic. Un'ora di 40 gradi. Buona la mia ascia! Mica tutto per te. Buona la mia ascia. Buona la mia ascia.